C'è un immenso patrimonio geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale in Sicilia che da oggi sarà tutelato e valorizzato grazie alla costituzione della rete di 54 comuni della Sicilia centro-occidentale che vuole anche puntare sul turismo lento, quello degli escursionisti, quello di chi è curioso e vuole scoprire di più la storia dei luoghi incantevoli che offre la Sicilia. Dopo alcuni incontri con la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, la CMSB, che ha sede in Sardegna di Iglesias e l'assessorato siciliano delle energie e dei servizi di pubblica utilità, è stato presentato alla Fondazione CMSB un progetto di portata europea che inserirà tra gli itinerari culturali europei del Consiglio d'Europa quelli presenti nei siti minerari italiani ed europei con cui si condivide la stessa esperienza, lo stesso patrimonio storico-culturale. Un passo importante per i comuni di questa rete, sottolinea l'assessore Marcello Frangiomone, le miniere sono la nostra radice storica, dice, riportano alla nostra identità e poterne valorizzare il patrimonio che rappresentano è determinante considerando il respiro nazionale ed europeo che ha l'adesione a questa rete.